La consegna delle drappelle alla divisione Littorio, presente il segretario del partito in una località dell'Italia settentrionale. Il ministro Serena passa in rassegna le truppe e le organizzazioni del partito. Le giovani fasciste allacciano le drappelle alle 24 trombe della divisione. Camicenere e popolo gridano la loro ardente devozione al Duce e la certezza della vittoria.